Fra pochi giorni i fanesi amanti del carnevale decideranno come sarà composto il nuovo consiglio direttivo dell'ente e per la prima volta saranno centinaia, addirittura 1741 i soci che ne avranno diritto. Fra i candidati c'è anche il presidente uscente Luciano Cecchini che oggi ha fatto un bilancio degli ultimi sei anni della manifestazione. Fra gli obiettivi raggiunti c'è l'alto numero di tessere visto che prima del suo arrivo furono al massimo 200 i soci iscritti. Inoltre la aver ideato una lotteria solidale capace di coinvolgere decine di associazioni e di devolvere in beneficenza solo nel 2016 oltre 28 mila euro. Ma le novità sono state diverse come il carnevale dei bambini diventato in poco tempo imprescindibile e l'aver riportato i veglioni fra i riti del periodo carnevalesco. Molte cose hanno visto la luce finalmente. Prima tra tutti è stato il mio primo lancio, dice facciamo conoscere la carnevalesca alla città, facciamo innamorare la città al carnevale. Riuscito perché i famosi mille soci li abbiamo superati, superati abbondantemente, addirittura si rischia di doppiare la cifra. Ed insieme tutto il consiglio direttivo compatto, meno due che hanno saltato il fosso, sono compatti nella mia rielezione e quindi nella composizione per il nuovo triennio. C'è ancora tanto lavoro da fare, ha detto Cecchini, per rinnovare e lanciare sempre di più l'evento a livello nazionale e da tempo spiega che stiamo lavorando al carnevale 2017 e grazie alla collaborazione con Enrico Tosi nelle prossime settimane sarà pubblicato il primo dei tre volumi della grande enciclopedia del carnevale, senza dimenticare un archivio storico consultabile da tutti in cui vengono raccontati quasi 700 anni di storia della Kermess. I sogni ce ne sono tanti, uno tra questi è stato un sogno nato da sempre, avere il museo del carnevale e grazie all'amministrazione che oggi tramite il nostro vice sindaco Marchegiani porta avanti questa grande idea del Sant'Arcangelo spero di vederla realizzata nel prossimo triennio. Se sarò ancora io presidente me lo auguro, visto e considerato che tanta gente riconoscono in questo grande lavoro che è stato fatto un rilancio completo dell'ente carnevalesca ma soprattutto del nostro carnevale che ormai è entrato a far parte di tutti i fanesi che veramente ci stimano e ci vogliono bene. Vi invito domenica alle 9 ex chiesa del suffragio e che dirvi, viva la carnevalesca e viva il carnevale!